Buongiorno, sono Giuliana Puntura e sono una psicologa e oggi vorrei parlarvi di orientamento. Sicuramente avrete già sentito questa parola a scuola, ma forse mai vi siete soffermati sul suo significato e sulla centralità che potrebbe avere per voi. Mi piace pensare all'orientamento come ad un percorso di allenamento, fatto di esercizi e impegno costante con l'obiettivo principale di insegnarvi a individuare una direzione verso cui muovervi per costruire il vostro progetto di vita. Come ci si allena, direte? Primo passo da fare, un selfie e in questo sicuramente sarete più bravi di me. Il selfie che vi chiedo di fare però è un selfie interiore che vi consenta di apprendere meglio quali sono le vostre capacità, i vostri interessi, le vostre attitudini, le attività verso le quali vi sentite più portati. Secondo passo, dopo aver acquisito informazioni su voi stessi, è quello di esplorare la realtà esterna e quindi conoscere un po' di più il mondo del lavoro e delle professioni. Solo così, passo dopo passo, potrete costruire il vostro futuro e compiere delle scelte consapevoli e coerenti non solo a quello che siete voi, ma anche a quello che è il contesto in cui vi trovate. Per questo voglio parlarvi adesso della scuola per cui lavoro e quindi dell'ERIS. L'ERIS è una scuola di formazione professionale tra le prime in Sicilia per numero di allievi e di percorsi formativi attivati. L'ERIS consente a chi la sceglie di imparare un mestiere direttamente sul campo attraverso molte ore di pratica in laboratorio e nei diversi stage formativi che diventeranno, si spera, le vostre future aziende di lavoro. Allora, chi ancora non ha compiuto 18 anni può scegliere tra diversi percorsi formativi. Abbiamo il settore del benessere e quindi estetica e acconciatura, il settore ristorazione con i corsi di cucina e sala bar, il settore elettrico e il settore meccanico. Vorrei che guardaste alcuni tutorial realizzati dai nostri docenti per conoscere un po' di più questi profili. Se vi ho incuriosito, compilate il form e sarete contattati per conoscerci meglio. Grazie.